Emergenza cenere a Catania, un problema non da poco, ma c'è nel frattempo anche emergenza sanitaria, emergenza spazzatura, emergenza carenza di politica amministrativa. Cittadini come dire un attimino arrabbiati, secondo alcuni il sindaco è una persona per bene, molto garbata e tutto, ma purtroppo forse questo tipo di attività per una persona per bene come lui è difficile da gestire. Chiediamo in nome per conto dei cittadini il commissariamento della Polizia Municipale, della Protezione Civile e chiediamo anche l'intervento del Prefetto. Fortunatamente la terra lavica è stata solo un giorno e se malauguratamente dovesse piovere o questa cenere dovesse ripetersi per più giorni, non immaginiamo gli eventuali scenari futuri. Considalia, ma anche il Comitato, il Cittadino, stiamo fidendo che dei interventi seri e urgenti.